Se ti assegnano un compito che va contro tutto quello in cui credi, tu lo faresti? Ma questi desideratori hanno un quadro evolutivo molto successivo al nostro. Come hanno fatto ad arrivare fino a qui? Da noi, in questo edificio? Quando li faremo uscire? Non lo so. Terza intervista è il signor Gabo, nato nel 2444. Ci sono buone possibilità che lei esca dal centro, però dovrà spiegarci tutte le metodologie del viaggio spazio-temporale. Se uniamo le due estremità? Lo sai che una volta uscita, nessuno di noi avrà più contatti con la viaggiatrice. Vedi, Salva, hanno un piano qui, guarda. Vogliono che tu muoia. C'è la pertosse, c'è il vaiolo, c'è la polmonite. Se tu dovessi uscire adesso, in qualche giorno sarà stranata. Dov'è Selva? Non lo so. Sarà ritornata nel futuro. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Grazie a tutti.